Io sono Originale, è l'iniziativa promossa dalla Direzione Generale Lota alla Contraffazione Ufficio Italiano Breveti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dalle Associazioni dei Consumatori. Nel 2015, un consumatore su quattro ha acquistato almeno una volta un prodotto o un servizio illegale. Per oltre il 70% dei consumatori, questa modalità di acquisto è legata a motivi di natura economica. Cresce però la consapevolezza sui rischi per la salute, a testimonianza di una maggiore coscienza dei consumatori. Il progetto vuole diffondere un approccio che vede il consumatore non più vittima inerme della contraffazione, ma consapevole dei rischi di acquistare falso e del proprio ruolo sociale nella lotta alla contraffazione. In partenza dalla capitale, il furgone targato Io sono Originale si muoverà alla volta delle prime città da giugno 2016, per terminare nell'estate del 2017, e coinvolgerà le principali piazze italiane con divertenti iniziative di informazione ed intrattenimento. In ogni città, i volontari delle associazioni accoglieranno il road show e interagiranno con i consumatori di tutte le età, nell'ottica di informare sui rischi legati alla contraffazione e all'utilizzo degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale e industriale. Uno spazio riservato anche ai più piccoli, che saranno guidati in un gioco interattivo alla scoperta dei prodotti contraffatti, mentre i giovani alunni di alcune scuole italiane vedranno approdare il tour nei propri istituti, con materiale informativo appositamente realizzato per loro. E come se non bastasse, in ogni città un attore professionista interagirà con i cittadini spettatori, chiunque potrà entrare nel teatro scatola, un luogo in cui nulla è quello che sembra e in cui sarà possibile fare delle scoperte inaspettate. Coinvolgere attivamente i cittadini consumatori è l'obiettivo del progetto, perché l'unico modo per combattere la contraffazione è informarsi, prendere consapevolezza del fenomeno e agire in contrasto con esso. Buon viaggio all'insegna della lotta alla contraffazione! Per maggiori informazioni e per conoscere le iniziative più vicine alla tua città, seguici sulla pagina Facebook Io Sono Originale. Vi aspettiamo numerosi! Grazie a tutti!